buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 18 ottobre 2024 e vediamo subito chi è il santo del giorno per iniziare così la giornata sotto la benedizione di un santo particolare e questa che questa volta è un santo molto molto conosciuto ed eccolo nella grafica è san luca quante persone ancora oggi si chiamano luca a loro diciamo buon anomastico a partire anche dal sindaco di fano luca serfilippi che porta questo nome allora san luca evangelista era di antiochia medico divenne seguace di san paolo scrisse il terzo vangelo e anche gli atti degli apostoli e le sue reliquie si trovano nella basilica di santa giustina a padova si dice anche che fosse un grande pittore tant'è che alcune icone attribuite a san luca ancora si conservano al giorno d'oggi ciò detto passiamo alle previsioni del tempo ebbene oggi abbiamo un tempo instabile con piogge intermittenti alternate a pause asciutte anche prolungate i venti sono deboli e moderati da sud est per quanto riguarda le coste est e sud est per quanto riguarda l'entroterra le temperature 19 la minima 22 la massima il mare è leggermente mosso il sole sorgerà alle 7 26 e tramonterà alle 18 e 23 abbiamo detto un attimo quello che si annuncia in questa giornata ora vediamo invece quello che è capitato nella giornata di ieri aprendo i giornali oggi iniziamo dal corriere adriatico ed eccola l'apertura sulla pagina di fano si parla di politica perché ieri c'è stata una lunga devo dire molto lunga seduta del consiglio comunale che è terminata a tardanotte oltre a luna ebbene molto a carne al fuoco ma soprattutto si è parlato dell'istituzione dei consigli di quartiere dei nuovi consigli di quartiere il cui regolamento è stato predisposto dalla giunta un regolamento assai contestato da tutta l'opposizione che ha cercato prima di tutto di rinviare la seduta perché così si possa si potesse ancora confrontarsi con la maggioranza in sede di commissione cercare magari di trovare un accordo ma la giunta ha tenuto duro e per cui la alla fine la delibera è stata approvata quindi fano avrà i suoi consigli di quartiere sono 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 diverse novità ormai abbiamo anche annunciate nei giorni scorsi si tratta di dieci consigli di quartiere costituiti ciascuno da venti consiglieri e poi quello che è stato contestato in modo particolare è il metodo della elezione la opposizione intendeva attribuire questa facoltà ai cittadini con una elezione diretta mentre la giunta ha preferito sorteggiare cinque dei venti consiglieri che dovranno far parte dei consigli mentre gli altri 15 saranno eletti dal consiglio comunale ebbene ieri però nel pomeriggio c'è stata una conferenza stampa di tutta l'opposizione ovvero di tutte le forze politiche della opposizione a partire dal gruppo consigliare del partito democratico poi c'erano anche francesco panaroni del movimento cinque stelle stefano marchegiani della fano che vogliamo ipolita bonci del bene di fano cresce e poi c'era anche l'adesione non era presente ma insomma era anche lui della partita a samuele mascarin di in comune e tutto questo poi è stato riverberato è stato poi anche amplificato nella seduta del consiglio comunale di ieri sera che che cosa è che cosa che cosa contesta l'opposizione contesta il metodo della elezione l'abbiamo detto contesta il numero dei consigli e l'opposizione vorrebbe che si ritornasse alle sei circoscrizioni invece delle dieci in cui è stato diviso il territorio dalla giunta ser filippi e poi dobbiamo dire che è stato contestato anche così il metodo che è stato assunto senza alcuna contestazione senza alcun confronto né con il terzo settore né con le associazioni culturali insomma è stato un dibattito molto molto intenso da parte della giunta c'è stata la volontà di procedere probabilmente anche l'opposizione alle sue pe che dato che nella tornata amministrativa nella passata tornata amministrativa non è riuscita a dare corpo al regolamento che pure aveva approvato e quindi la nuova giunta ha assunto una sua posizione e ha tenuto duro e così si è andati avanti sono stati anche così discussi 24 emendamenti alcuni pochi sono stati anche accettati dalla giunta li ha citati l'assessore Santorelli che con il segretario comunale è stato un po' l'autore di questo nuovo regolamento la cui applicazione ora aspetterà a un altro assessore e quindi si è proceduto tranquillamente ma poi ci sono stati anche tanti altri argomenti che sono stati trattati nella seduta del consiglio comunale che probabilmente vedremo anche sulla stampa nei prossimi giorni. Vediamo le altre notizie la notizia di cronaca che ieri è stata anticipata dal resto del Carlino appare oggi sulle Corriere girava in centro con un macete nei guai per porto abusivo d'arme. Si tratta di un cinquantenne bloccato dalla polizia davanti alla Memo nei giardini di piazza Ammiani e stava litigando con alcune persone ma quello che era poco raccomandabile era quella lama che nascondeva sotto la giacca e che spuntava ed è stata notata appunto da alcuni passanti che preoccupati era un macete pensate hanno chiamato subito le forze dell'ordine le quali sono intervenute e hanno portato in commissariato appunto questo uomo una lama di 50 centimetri mezzo metro insomma era certamente poco raccomandabile e comunque è stato accusato di porto abusivo d'armi perché non ha poi fatto alcunché se non quella lite di cui si è parlato. Una iniziativa culturale di grande spessore è stata presentata ieri a Palazzo Corbelli. Per la cronaca Palazzo Corbelli è quel palazzo che i fanesi possono conoscere perché sorge sopra il caffè centrale. Siamo quindi nel cuore del centro storico, un palazzo storico. Il Credit Agricole e la Fondazione hanno organizzato una bellissima mostra di impressionisti, di stampe realizzate dagli impressionisti italiani e francesi che mostrano un campionario veramente eccezionale di quello che è stato organizzato, è stato compiuto alla fine del 1800. E i nomi sono veramente eclatanti Edgard, Degas, Pissarro, poi ancora Signac, Guimin, Alfred Sisley, ancora Manet, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Giuseppe Denitis, Giovanni Fattori, sono veramente le punte dell'espressione artistica dell'impressionismo. Ebbene la mostra sarà inaugurata oggi alle 17.30 e si concluderà il 2 febbraio prossimo. La mostra grafica è stata curata da Rodolfo Battestini e Luigi Benelli. Ed ora passiamo alle altre notizie e ancora senza esito le ricerche di un ragazzo che è scompasso. Si tratta di Riccardo Branchini di Acqualagna. Riccardo ritorna a casa è il appello lanciato dalla madre. Insieme risolviamo tutto. L'appello è su Facebook, il caso citato anche nel programma TV. Chi l'ha visto? Purtroppo le ricerche compiute in maniera anche approfondita, con grande dispiego di forze fino ad oggi, non hanno dato esito. C'è una mamma, ha detto la conduttrice di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli, che cerca aiuto in rete e pubblica questo post. Mio figlio è scomparso nella tarda serata di sabato nei pressi di Acqualagna. Se qualcuno lo avesse visto, prego di contattarmi immediatamente. Purtroppo sabato è piuttosto lontano. Insomma, la sua scomparsa si fa sempre più misteriosa, ma anche sempre più preoccupante. Un'altra notizia di cronaca. Va a giudizio abbreviato. Andrea Marchionni, per aver ucciso la cognata, sparò in testa la cognata, Marina Luzzi, e si valuterà la misura di sicurezza. Andrea Marchionni è detenuto in una struttura di REMS, quelle strutture di residenza, per l'esecuzione delle misure di sicurezza per i casi di natura psichiatrica. Ebbene, sarà giudicato con rito abbreviato. Marchionni, falegname di 47 anni, re o confesso dell'omicidio della cognata, 39enne di Fossombrone. Il fatto risale al 25 luglio del 2023. Passiamo a Mondolfo. Mondolfo è famosa perché la grafologia è di casa in questa località. Ebbene, oggi il giornale ci annuncia una scuola triennale di grafologia. Al via le lezioni per 14 iscritti. Il corso di 160 ore si svolge sabato presso l'Istituto Fermi da ottobre e giugno. Ebbene, nei giorni scorsi a Mondolfo l'associazione Grafema ha inaugurato questa scuola triennale di grafologia. Ben 14 gli studenti che hanno delito al corso di 160 ore. Vediamo ancora la pagina di Senegaglia dove largo spazio viene dato ai funerali del ragazzino che purtroppo ha deciso di farla finita per gli atti di persecuzione, di bullismo di cui è stato fatto oggetto a scuola. Paloncini bianchi per Leo. Il rimpianto dei compagni. Scusa, non abbiamo capito quello che ti stava accadendo. È stata una delle espressioni che i compagni di scuola hanno pronunciato al momento dei suoi funerali. Voglio dirti grazie che ora tutto quel dolore che ti arso nel cuore e che ora arde in noi non è stato vano, ha detto un suo compagno. Non so ora cosa succederà, ma voglio che questo bruciore si trasformi in volontà di cambiare, sia che speriamo che il mondo sia meglio. È stato un po' il dolore che ognuno nutre nel suo animo perché veramente quello che è accaduto forse semina una piccola briciola, ma forse anche grande briciola, di colpa in ognuno di noi. Il Ministero incalza il Panzini. Altre verifiche. Serve severità. L'insegnante a cui si era rivolto il quindicenne ha detto non mi ha parlato di bullismo, voleva solo cambiare scuola. Comunque nella prima relazione degli ispettori è arrivata a Roma già nel pomeriggio di lunedì, ma il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, vuole scavare più a fondo. La scuola, ha detto Valditara, deve essere una comunità umana educante. Ebbene, non ci si può soltanto occupare di istruzione, di dare informazioni, di dare nozioni ai ragazzi, ma bisogna incidere anche nella loro maturità per far sì che tutti quanti abbiano un punto di riferimento solidale, amichevole per quanto riguarda il rapporto con gli altri. Questo è veramente un giudizio, un obiettivo che deve essere perseguito. Teniamo anche la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, dove si parla di un progetto che è langue da molto molto tempo ed è il progetto per l'ex San Benedetto. Il Comune ora va alla ricerca di una cabina di regia. Sulla carta, il cantiere dovrebbe partire a febbraio, ma non è pronto ancora il progetto esecutivo. Ebbene, c'è un bando per affidare la direzione dei lavori riguardo la vecchia lavanderia. Uscito il bando, dunque, per questo appalto, sono passati ormai due mesi dall'ultimo sopralluogo del sindaco Andrea Biancani. Insomma, si procede a piccoli passi per la trasformazione di questo enorme stabile che si trova in fondo al corso di Pesaro, ma che deve essere riutilizzato, deve essere rifunzionalizzato per altri scopi. E intanto guardiamo quello che si fa per i mosaici del Duomo. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di una visione 3D per quanto riguarda le mura romane di Fano. Ebbene, anche nei mosaici del Duomo di Pesaro si farà la stessa cosa. Ebbene, ritrarre una visione 3D vuol dire dare ancora più possibilità ai turisti, ma anche ai pesaresi, di apprezzare questo grande bene culturale. Turisti e cittadini avranno la possibilità di fare un viaggio virtuale ripercorrendo le varie fasi di ricostruzione della Basilica fino a quella odierna e dei tappeti musivi. Questo è un po' quello che si propone, questo obiettivo. Insomma, tutta la storia della Basilica. La Basilica di Pesaro è molto, molto antica, dall'età paleocristiana fino ai giorni nostri. E' quello che nasconde nel suo livello, nel suo sottolivello. E' veramente una cosa preziosa perché poi è un duplice tappeto musivo, appunto, di epoca molto, molto antica. A piante dosi si chieda più poliziotti invece di delegittimare il Comune. Parla così Giampiero Bellucci nei confronti del onorevole Antonio Balvelli, insomma, che cerca di attirare l'attenzione di piante dosi per quanto riguarda l'inchiesta su Opera Maestra e Stella Polare. Inchiesta relativa a 600 mila euro di affidamenti che vede tre iscritti nel registro degli indagati per concorso in corruzione e falso. Giampiero Bellucci cerca appunto di, così, di distrarre, tra virgolette e balvelli, dicendo invece di occuparsi di questa cosa è meglio che ti occupi dei problemi più contingenti di Fano, come quello di incrementare il servizio di sicurezza, in quanto sapevo benissimo che l'organico della Questura e anche il commissariato di Fano è molto carente rispetto alle necessità del territorio. Abbiamo visto anche in questi giorni come gli episodi di cronaca si succedono a episodi su episodi, in modo da rendere preoccupante anche la situazione della vivibilità. Non manca un articolo sulle antenne, oggi sulla pagina dei giornali. L'antenna è troppo vicina alle scuole, arriva alla centralina per le emissioni. Il Comune accoglie le richieste dei genitori e dei residenti nella zona Porto. I cittadini possono stare tranquilli anche quando le antenne 5G sono vicine a scuola o ai siti sensibili. E il Comune sta intensificando la campagna di monitoraggio delle frequenze elettromagnetiche. Se si rilevasse qualche problema per quanto riguarda l'incidenza di queste antenne, allora ovviamente queste saranno oscurate. Ma per il momento, a quanto dice l'ingegnere Mauro Moretti, dirigente del servizio SUAP edilizia privata, sull'aggiornamento della mappa dei siti indicati per le nuove maxi antenne, si sta cercando appunto di identificare tutto quanto sta accadendo nelle antenne pesaresi. Quindi al momento non ci sono rilevanze preoccupanti. Vediamo anche la pagina di Urbino. Abbiamo una presa di posizione di Oriano Giovannelli, ex sindaco di Pesaro, il quale evidenzia come l'università, ma questo lo sappiamo, di Urbino è una ricchezza, una risorsa per tutta la città ducale. Ebbene però insomma ora vengono a mancare 1,9 milioni di euro e insomma sono risorse veramente preziose per il mantenimento, per il progresso di questa istituzione culturale. Giovannelli infatti si dice molto preoccupato per il futuro. La bomba demografica sarà devastante, serve una nuova strategia, ha dichiarato appunto Oriano Giovannelli. Allora ci ho detto, possiamo chiudere il Corriere Adriatico e passare al resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata a un altro capitolo su Etienne, Lucarelli e Gino Bartolucci, fanno noleggi un fatturato che si impenna. In quattro anni la ditta di Lucarelli e Bartolucci ha aumentato a un più 478%, un incremento che si riferisce dal 2020 al 2023. Poi abbiamo anche una dichiarazione del consigliere Tommaso Mazzanti che interviene sul rapporto tra l'affanno noleggi e i tassisti. I tassisti si dicono danneggiati per certi provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale. Invece Mazzanti dice che questa situazione poteva configurare un conflitto di interessi solo nel caso in cui l'impresa di noleggio esercitasse abusivamente un'attività assimilabile a quella dei taxi. Però noi non abbiamo mai avuto in mano elementi concreti che potessero dimostrare questo. Quindi è una dichiarazione che viene rilasciata in favore dell'affanno noleggi. La guerra dei quartieri, giunta autoritaria, anche il resto del carlino interviene sulla protesta elevata dalle forze di opposizione, le forze consigliari di opposizione a Fano. per quanto riguarda l'approvazione dei consigli di quartiere, opposizione all'attacco sulle modalità di scelta dei consiglieri fanesi. Noi per essere rappresentati dobbiamo affidarci alla Dea Fortuna, perché insomma c'è anche il sorteggio dei cinque consiglieri e a chi tocca, la tocca, si può dire. Parliamo oltre della dengue, c'è anche un articolo che riguarda la dengue, perché ieri sera in Consiglio Comunale il Sindaco Serfilippi ha risposto ad una interrogazione per quanto riguarda la situazione della dengue nel nostro territorio. Dengue che sembra in calo, perché proprio in questi giorni non sono rilevati nuovi casi. Però c'è un altro problema. C'è il problema dell'influenza e non dobbiamo disconoscerlo, non dobbiamo sminuirlo questo, perché è un problema persistente nel nostro territorio, che poi si associa o alla dengue o al Covid. Insomma abbiamo delle cose che possono un pochino aggravarsi rispetto a una normale influenza, rispetto a un semplice raffreddore o un semplice mal di gola. Ebbene, parliamo di vaccini anti-influenzali. A terre roveresche le aperture sono straordinarie. Le farà da domani il medico di base Antonio Scardino, anche a San Costanzo. Ebbene, è disponibile un servizio anche a domicilio per fare queste vaccinazioni. Un servizio supplementare dedicato esclusivamente alle vaccinazioni anti-influenzali operativo nel fine settimana in ambulatorio, ma anche a domicilio. Lo ha introdotto il medico di medicina generale, Antonio Scardino, per i propri pazienti di terre roveresche di San Costanzo. Partirà già da domani, quando, dalle 10 alle 12, il dottore effettuerà un'apertura straordinaria del suo ambulatorio. Quindi chi vuole vaccinarsi può comunque approfittare di questa occasione. Per quanto riguarda Urbino, il resto del Carlino, abbiamo visto come il Corriere Adriatico parli di una presa di posizione di Giovanelli per quanto riguarda l'Università. Invece il resto del Carlino parla di quello che accade di notte a Urbino. Insomma, l'Università è un po' lo stesso connessa, perché poi si tratta di matricole, si tratta di studenti che di notte, nel giovedì e nei sabati, soprattutto, si dedicherebbero ad atteggiamenti un po' scalmanati, chiasso, qualche eversione. Insomma, ci sono problemi di ordine pubblico, un problema che però si ripete ormai da tanto, tanto tempo, in modo particolare, in queste due giornate, giovedì e sabato, sono quelle più importanti, quelle più nell'occhio del ciclone. Ormai non basta più neanche la vigilanza per arginare questo problema. Questo articolo non fa altro che richiedere più vigilanza e anche più consapevolezza da parte degli studenti che dovrebbero aver raggiunto una certa maturità. Riccardo, ore di angoscia e ricerche, parte l'appello anche a chi l'ha visto. Lo vediamo qua sul giornale, sotto la lente di ingradimento degli investigatori, gli strumenti informatici e i carteggi dei giovani per cercare di capire che cosa è accaduto a questo ragazzo che non si trova più da sabato scorso. E speriamo che domani, almeno, possiamo riportare una buona notizia di poterlo ritrovare in buona salute. Con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento sempre domani alle 7. Intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.